oh buongiorno signori buongiorno sono mai senza nome e il video benvenuto ancora una volta su treasure hunter simulator dove cerchiamo tesori e siamo nella grotta scandinava signori la scandinavia porca la miseriaccia come facevamo a farci sfuggire questo gran lavoro del villaggio nascosto dentro una grotta in norvegia io amo la norvegia non so perché il telefono in mano meglio prendere la carta igienica che questa non ci sa mai quando possa servire però dannazione io amo la norvegia se volete regalarmi una vacanza in norvegia non fate i problemi ci sono i link descrizione per le varie donazioni e poi potete anche condividere il video così tutti i norvegesi del mondo possono vedere questo video altamente norvegese mi auguro che lei stia bene sto bene grazie il nostro istituto ha recentemente rilevato una grande porzione di un sistema di grotte situato in norvegia ovviamente siamo tutti pigri non vogliamo andarci ci mandiamo lei vabbè ci vado che c'è stato raccomandato da un nostro dipendente vedi è quello che dovete fare dovete raccomandare ma senza nome alla nonna alla zia e soprattutto e soprattutto a vostra sorella quel pezzo di gnocca molto bene allegato numero uno un carretto quattro barili tanta fatica per fare una roba del genere prestigio 5 è uno sputo signori e siamo pronti per andare nella grotta in norvegia dove vediamo che abbiamo un po di roba medio grande abbastanza potente 10 per cento per poco profondo poco profondo e niente 14 per cento per la roba centrale medio e grande allora di detector noi sapete che abbiamo il abbiamo questo coso qua lui j mark e quindi vi direi che andiamo sempre col analogico quest'oggi perché siamo poveri non abbiamo prestigio 6 non abbiamo 750 dollari dobbiamo tornare con le tasche piene e allora andiamo ce n'è a salsness nella grotta scandinava ed è così signore che ci troviamo dentro a una bellissima grotta io sono mai senza nome e non so esattamente come si fa a trovare tesori 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 d'oriente che qua c'è un percorso qua non c'è più il percorso c'è il percorso dammi un percorso che so con la testa per terra ok da questa parte sembra esserci qualche cosa iniziamo subito col j mark e fabbi p p p p p illuminati j mar la cosa positiva di questo posto signori è che essendo che siamo dentro una grotta cosa dovrebbero vedersi easy pisi capito deve essere facci trovare qualcosa vero gioco eccolo qua eccolo qua tira fuori la sua pala dal posto nascosto da un buco veramente profondo nascosto e clicca per scavare rende un po come dire usciamo fuori dal contesto con questo clicca per scavare abbiamo trovato un anello per il naso di qualcuno una sorta di gancio metallico ovviamente usiamo la nostra bomboletta gigantesca penso sia di queste dimensioni la bomboletta e prendiamo i nostri primi 13 dollari molto bene salvataggi il gioco è stato potenziato è stato migliorato signori da l'ultima volta che ci abbiamo giocato perché sono passati mesi sapete che ogni tanto lascio i titoli sentite musica dark lascio i titoli li a fermentare soprattutto quando sono quando sono un po così e dopo me li esplodo tutti adesso vediamo di esplodere trovando qualcosa di potente cos'è sta cosa un chiodo che si mettevano nella gamba ma no è una sega è una sega ho trovato una sega signori l'amo di una sega a mano e queste parole messe così insieme mi posso assicurare che non si sa di cosa si parla non è troppo il top ma nessun problema mettiamo la testa ancora per terra meno male che c'era una 10 per cento di probabilità di trovare roba adesso mi ricordo perché non giocavo tanto spesso cioè perché non porto da un bel po questo titolo perché insomma ci siamo capiti molto bene in realtà le grotte qua norvegesi gran ficata deve esserci abbastanza freddo tanto umido il problema è che vedete sono dei buchi io ho fatto un giro solo qua in mezzo ai buchi ho fatto tanti buchi e ci sono un due tre posti cioli che dobbiamo visitare ma che io non ho voluto visitare perché insomma sono putti di interesse ma non voglio mica spoilerarmi subito no 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 e allora quello che siamo riusciti a fare l'abbiamo trovato po di schifezze per un volare totale di 238 dollari e questa è una cosa bella ci dice finalmente quanto abbiamo fatto schifo schifo rovinato distrutto rovinato 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 distrutto a quanto pare il nostro metal detector non trova le robe buone trova solo schifezze distrutte e a differenza di quanto facevo prima che dovevo fare la calcolatrice telefono insomma per vedere quanto avevo fatto adesso me lo dice lui un altro punto avanti un altro punto in più per 300 hunter simulator adesso ci facciamo la gara che mi dice bello devi fare la strada più veloce da qua per andare in culonia e io dico va iniziare sì portami facciamo la gara vai bello corri baby hit me baby one more time my loneliness is killing me oh yeah I must confess non voglio guardarmi troppo in giro perché so che tanto ci devo tornare tre due volte almeno in conseguenza il bello è che abbiamo i soldi per tornare indietro ok non abbiamo i soldi per fare per trovare metal detector e cose extra be bitch ma abbiamo i soldi per tornare indietro qua guardate un villaggio vichingo è proprio vichingo aspetta togliti che non devo fare la foto devo devo arrivare a vedere le madonna montagne norvegesi che fico ragionevo che non era decisamente il percorso più veloce però guardate che fico vabbè mi chiede anche di fare una foto dice ma a chi esattamente ba baby è scattata è scattata al momento giusto villaggio nascosto ma è bellissimo questo villaggio c'è proprio roba da genius adesso il problema è che Mike si deve rifare tutta la corsa e ora finché ci facciamo la strada di ritorno raccogliamo un po' di cimeli vichinghi vichingi vi vi beh io i vichinghi signori li apprezzo li adoro erano dei selvaticoni del cazzen ma non si può non ammirarli non si può non adorarli erano vivevano veramente male pensavano solo a picchiarsi a ammazzarsi a tradirsi però erano degli esperti navigatori non si sa cioè nel senso non avevano paura di un cazzen quelle persone lì erano veramente e adesso adesso sono pieni di auto elettriche questo ci piace sono avanzati gli studenti quando nascono a differenza dell'Italia nasciamo con un debito di 30.000 euro più o meno ok in America 100.000 e passa quindi sono ancora più sfigati però qua nasciamo solo con un debito di 30.000 e qualcosa euro quando si nasce per via di istruzione tutte cagate che dovrebbe pagare lo stato per ognuno di noi che in realtà noi paghiamo poi vabbè lasciamo perdere l'economia ma quello che volevo dirvi era essenzialmente il fatto che nei paesi scandinavi c'hanno addirittura tipo 15.000 euro di bonus ok c'hanno i cash extra c'è lo stato che ti paga per andare all'università in al nord c'è lo stato che ti paga se fai 80.000 figli c'è lo stato che si prende cura di te assistenza sociale sanitaria di tutti i tipi c'è lo stato che ti paga capito cioè ah e siccome non bastava hanno pure ridotto le ore di lavoro perché dobbiamo dedicare più tempo alla famiglia e a cazzeggiare essenzialmente molto bene perché gente che cazzeggia gente che ha soldi cazzeggia quindi spende quindi muoviamo l'economia parliamo di economia quest'oggi siamo nelle grotte norvegesi a parlare di economia norvegese molto bene nel frattempo troviamo altri cimedi e schifezze vediamo di trovare un bel po' di soldi per prendere il dispositivo potente che forse fa bip siamo in una grotta e noi che facciamo? guardiamo per terra guardiamo per terra e poi scaviamo e nel frattempo gioco con la coda della vipi perché è così emozionante che posso permettermi anche di fare questo la cara vipi ha un problema a lavare la sua coda allora io prendo la coda e la metto nel naso così se la può lavare e pulire e no ok mi sta mortendo forse non si sta divertendo ciao pipi abbiamo trovato delle cesoie bene tenaglie scusate tenaglie da 16 euro 16 euro fra 16 euro se qualcuno mi fa la donazione da 16 euro io gli dedico il prossimo video di treasure hunter simulator ok cioè proprio ci saranno dediche dappertutto al primo al primo che mi fa la donazione da 16 euro non di più non di meno così almeno insomma quest'oggi guadagno qualcosa eh che cacchia ahia ahia lama di una vecchia falce va bene stai dove te la metto io la vecchia falce ne ho ormai 10 di queste aspetta ok questa è la volta buona questa è la volta buona mike questa è la volta buona sono pronto la prima volta non ce l'ho fatta per tipo due nanosecondi ma adesso sono pronto a trovare il percorso più veloce oh cazzo ho sbagliato strada mi sa il percorso più veloce per andare lassù dai mike corri bello corri al villaggio bavarese no questo non è il villaggio bavarese al villaggio scandinavo noi andiamo i tempi sono stretti marcapupuccipipan corri mike corri mike ok potrei potrei fare cioè uno è diventato famoso cantando in italia signori è diventato famoso cantando andando col trattore in tangenziale e con quello sta diventando famoso perché io non potrei diventare famoso cantando qualcosa di simile fatta la missione yes attraverso le grotte e giro più veloce molto bene giro più veloce della grotta la grotta la grotta la grotta io la voglio al più presto sposar se una a una grotta è meglio star lontani non so cosa sto cantando shalalalalala prestigio aumentato grazie a tutti i ritrovamenti il tuo livello di prestigio aumentato bene sono beh cazzo sono quasi livello 6 e mezzo detector denaro è sufficiente finalmente adesso mi dice sei povero franchi non possiamo prendere ancora franchi ma teniamoci quindi teniamoci jmar che ci trovava oggetti medi e grandi a profondità abbastanza decenti l'importante è quello che ci interessa ma vediamo allora la porta della luna mi auguro che stia bene questi temono sempre che stia male cioè il raffreddore l'ho passato bello adesso sto bene grazie a mezzo per certo da fare le mie medie al momento stiamo identificando tutti gli artefatti trovati nell'area vabbè se si trova ancora in zona così per caso desideriamo finiti un'altra opportunità vogliamo delle foto informi se è interessato scatta la grotta la porta della luna una foto della porta della luna scopri la grotta della porta della luna ok ricopensa 6 mila di prestigio allegato ah è questo questo buco la porta della luna va bene accettiamo e basta vedete è questo quello che stavo dicendo cioè nel senso denaro 8 euro perché devo vendere tutto sto schifo quindi andiamo qua e facciamo vendi e devo selezionare tutte proprio a caso ok vediamo abbiamo trovato delle lame dei ganci delle altre lame delle tenaglie delle lame di falce della sega da amputazione insomma solite robe allegre che si trovano quando si va in giro per le grotte vichinghe ok delle manette le famosissime manette vichinghe che usavano per legarsi e fare giochetti porno ok perché si sa che i vichinghi erano dei maiali ora lo mettono anche giù il piede nella grotta che finisce che praticamente trova 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 la grotta e trova un tesoro così dicevano non un amico la grotta la grotta con il mio ma mi domando perché non hanno messo i suoni cioè sul serio queste cose non hanno i suoni guardavo l'altro giorno sull'Australian Gold Diggers ok perché viene fuori che in Australia a differenza di quelli che sono in Alaska che fanno le robe alla Gold Rush dove hanno macchinari dove hanno un sacco di cose no in Australia ci sono sti sfigati che fanno in giro per il deserto con il Metal Detector però lì quando trovavano un metallo quando trovavano l'oro quando trovavano una roba buona continuavo a fare hai capito? non come queste schifezze che mi ritrovo io c'è una X una X indica il tesoro sicuramente acqua ok sto camminando sull'acqua sono Gesù ufficialmente è Gesù molto bene non ho trovato neanche un po' di spazzatura cioè non vorrei dire ma il buco della luna è qua sopra e io ovviamente metto la testa per terra neanche un po' di spazzatura i vichinghi erano davvero così puliti? queste sono domande che ci si pone quando si è nelle grotte dei vichinghi e non si trovano pezzi di spazzatura non si trovano manco i chiodi questi questi saldavano le cose capito? avevano la saldatura sicuramente all'epoca riuscivano a riscaldare il ferro a 3000 gradi semplicemente con la vista perché sennò i chiodi non gli servivano ma avevano un sacco di seghe quelle sì ok le seghe erano uno strumento comune era una roba di tutti i giorni loro mangiavano anche con le seghe ecco qua facciamo la foto al buco della luna bene la porta la porta stanno il buco ok vabbè è lo stesso ci siamo capiti l'importante è capirsi e fare un altro buco anche qua sotto il buco della luna la porta 400 dollari fatti anche oggi direi che non so neanche se ho finito la missione però io però sta per leggere scrivere torno in ufficio salve spero che le cose vadano bene cerchiamo di alcuni anni di rintracciare un oggetto storico molto richiesto nell'area sembra che abbiamo finalmente trovato una possibile traccia grazie a delle foto che hai scattato a caso ho un buco nel soffitto dopo aver visto la foto della porta della luna che ci ha mandato abbiamo contratto i vecchi documenti col team di ricerca è sempre così devi mandare una foto di merda poi controlla vabbè pensiamo che lei forse si trova esattamente proprio dove potrebbe essere ubicata la spada normanna per favore ti ha un occhiato al file legato e provi a trovarla scogliere irlandesi location ok trova questo punto guarda che foto di merda ho capito che erano foto di una volta però che foto di merda nel frattempo mike non può prendere assolutamente niente di tutto ciò sblocco il prestigio 7 così sblocco direttamente il pathfinder A invece del frankie che fa cagare ma nel frattempo vediamo ovviamente un altro sacco di schifezze e torniamo un'altra volta un'altra volta a quelle parti insomma vabbè vediamo di fare altri allora tenete presente che i prossimi cash che faccio sono tutti cash che fanno nelle mie tasche quindi sono già a 634 per un detector potente ho bisogno di 900 dollari più un bonus quindi devo tornare a casa con almeno 500 dollari onzi questo giro allora teniamo ancora sto schifo di jmarkkpl quel che schifo è e ho capito ho capito dove la spada la spada l'hanno nascosta bene devo dire che hanno fatto proprio un buon lavoro non capisco perché le luci qua sono viola quando tutte le luci sono bianche ma sarà per le pareti per il calcare per le schifezze varie ed ecco qui signori dove si trova la spada di mike la spada più potente che ci sia la spada che mi porterà la fama la gloria mi porterà alla fortuna mi porterà ai 10.000 10.000 la strada verso i 10.000 è lunga signori se non condividete è ancora più lunga è ancora più difficile però io cercherò di essere sempre positivo sempre propositivo sempre è una spada questa è la mia spada tirava fuori epoca medievale ok buona è buona è una spada medievale dall'aspetto della guardia non si tratta di una spada vichinga ma non ma non nemmeno ok ma non nemmeno una delle famose spade medievale di a cavaliere e allora che cazzo è la mia bombola è più grande di questa spada epoca undicesimo secolo è quella che viene definita una spada normanna un ritrovamento raro prezioso una spada ideata nel decimo undicesimo secolo quando le spade stavano passando al design vichingo comune fino allora alla famosa spada a cavaliere alto medievale ok stavano cambiando stavano cambiando vabbè stavano cambiando e basta e quindi abbiamo trovato il grande tesoro la missione è completata quanti cash ho in tasca solo 300 euro come faccio io come faccio a tornare a casa da mia moglie e dirle tesoro sono tornato con la spada normanna che non possiamo vendere come posso se non se non vi faccio vedere una cosa vi faccio vedere una cosa una cosa che nessuno ha mai visto prima ok nemmeno voi non avete mai visto prima una cosa del genere eeeh io ovviamente di qua c'è il villaggio il villaggio che avete già visto altre 4-5 volte perché anche io l'ho visto altre 4-5 volte non vi chiederò di disegnarmi di segna che c'è sulla quarta porta a destra dal lago no quello che vi chiederò è di aver pazienza finché Mike non trova questo schifo di roba lama di una sega a mano ok va bene prima di concludere questo video volevo farvi vedere questo posto magnifico bellissimo penso sia tipo una tomba ok ci sono delle delle rune ci sono delle rune là ci sono delle rune però voi aspettate un ciccenin che devo 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 praticamente scavarli qua fuori dalle rune perché dovrebbe esserci un tesoro dovrebbe esserci qualche cosa una testa di martello uno schifo di qualcosa è un sasso quello che stiamo scavando attraverso un sasso mettiamo la mano dentro un sasso cos'è sta roba che ci sta le tombe vabbè ah è una testa di martello cioè vedete io vedo ormai attraverso il pavimento vedo 13 euro grazie no io non voglio più scavare qua perché dopo i vichinghi mi maledicono guardate ci sono le iscrizioni ci sono degli scudi vichinghi e ci sono dei teschi tutta una famiglia ok messi tutti lì sorridenti e direi che adesso è il caso di tornarcene a casuccia molto bello molto bello una tomba ufficiale vichinga 400 dollari anche a sto giro torniamocene a casa e vediamo quello che riusciamo a combinare con 400 euro grazie al mio gnegne sono salito di livello va bene andiamo a vendere sto schifo abbiamo trovato un corno acustico signori un corno che non avete visto vale bene 37 dollari allora io dico ma sul serio uno signori si mette a fare sta roba cioè nel senso è peggio quasi peggio che fare lo youtuber fare il cercatore di robe del genere ok di cimeli chiamiamoli e allora vendiamo un po' di roba vendiamo un ciccino indietro e ci mancano 50 dollari io voglio prendere il 9 perfetto Pathfinder ah non il Frankie del Katzen però John Smith la spalla normale è stata una scoperta importante vorremmo informarla che è stata una delle prime scoperte di Sir Richard e la sua scoperta sarà una parte importante no aspetta aspetta come fa a essere una scoperta e Sir Richard l'ho appena scoperta io che c'è mio zio la scoperta poi è andata a seppellirla di nuovo lì che è deficiente cosa vuol dire ok stanno cercando cacciatori tesori di grande esperienza prestigio 7 e professionalità sulla base dell'opinione del mio collega tizio che non sappiamo manco che cazzo è lei corrisponde esattamente alla persona che sto cercando la proposta di lavoro che vorrei presentare chiedere di viaggiare nell'area di Galway Irlanda andiamo a trovare il Shiran praticamente non lontano dalla città c'è una vasta sezione di rovine che vorremmo controllare per quanto riguarda la presenza di eventuali oggetti storici delle rovine a precipizio tutta sta roba qua è anche un buone di scudo di buona qualità non so esattamente cosa sia ma concludo qua l'episodio vi ringrazio ovviamente tantissimo per l'attenzione condividetemelo lasciatemelo un like e ci vediamo nel prossimo episodio Mike senza nome passo e chiudo ciao ciao